un saluto amici da massimo foghetti buona giornata oggi è giovedì 4 agosto 2022 questa è la rassegna stampa di Pano TV iniziamo la giornata dando un'occhiata ai giornali il resto è Carlino e il Corriere Adriatico per quanto riguarda le pagine locali ma cominciamo subito con l'almanacco per vedere il santo del giorno e vediamo che è un santo in Italia non molto conosciuto ma lo è molto invece in Francia si tratta di San Giovanni Maria Vianney è nato in un paesello vicino a Lione in Francia nel 1787 divenne sacerdote in un tempo in cui non era certo facile per la chiesa cattolica sopravvivere dopo la rivoluzione francese e dopo l'epoca napoleonica si fece sacerdote infatti nel 1815 tramontato Napoleone fu parroco di Ars e fu molto amato dai fedeli era particolarmente devoto a Maria al Rosario e alla Eucarestia morì nel 1859 macerato dai digiuni e dalle penitenze San Giovanni Maria Vianney diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo non cambiano molto rispetto ai giorni scorsi vediamo la grafica e vediamo che il sole si estende su tutte le marche bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da nord al pomeriggio sempre modernati però da una deviazione della direzione da nord nord est il mare è poco mosso ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo qui il titolo di apertura si parla di pressione fiscale ma non di aumento in questo caso di alcuni provvedimenti che sono positivi ovvero Tari 200 mila euro per gli sgravi e sono in arrivo aiuti anche sull'acqua sono stati preannunciati ieri dall'assessore al welfare Dimitri Tinti stanziati circa 200 mila euro per ridurre le bollette della raccolta dei rifiuti non per tutti ma solo per quelle famiglie che hanno redditi ISEI più bassi l'agevolazione è pari al 70% per un importo in fattura qualora l'indicatore economico equivalente sia inferiore ai 18 mila euro invece è completamente totale lo sgravio il 100% nel caso che l'ISEI non superi la soglia di 10 mila euro insomma sono le famiglie più indigenti il provvedimento è stato illustrato ieri mattina nella sala comunale della Concordia dagli assessori Sara Cucchiarini e Dimitri Tinti a differenza di quanto avvenuto per le attività produttive il provvedimento per quanto riguarda le aziende è già stato annunciato pubblicato nei giorni scorsi la richiesta di agevolazioni sull'Atari deve essere prodotta questa volta direttamente dai cittadini e dalle famiglie interessate occorre fare domanda per ricevere questi aiuti e bisogna riempire dei moduli che sono stati appositamente predisposti e sono individuabili sul sito internet del Comune la scadenza per presentare queste domande è il 31 agosto e poi Tinti dicevo ha preannunciato anche altri provvedimenti per quanto riguarda il sostegno alle famiglie fanesi più fragili per quanto riguarda le bollette dell'acqua insomma questi saranno comunque evidenziati comunicati più tardi più in là appunto nel mese di agosto e ieri è stato presentato anche il paese dei Balocchi che ritorna dopo gli anni scuri della pandemia in un luogo che è deputato non può essere diversamente la piazza bambini del mondo a Bellocchi il paese dei Balocchi si riappropria della piazza intitola oggi il Corriere Adriatico appuntamento dal 18 al 21 agosto prossimi annunciato in precedenza il nuovo sindaco della manifestazione che è il cantautore Luca Barbarossa il quale riceverà la fascia durante la serata inaugurale ieri in municipio è stato illustrato il programma da parte di Michele Brocchini che è presidente dell'associazione Il Paese dei Balocchi due le novità una è lo spazio Slurp l'esclamazione dell'acqualina in bocca mutuata dal linguaggio onomatopeico dei fumetti l'altra novità è il parco di Mangiafuoco uno spazio aperto a grandi e piccini dove provare oppure ritrovare i giochi genuini attivi da un tempo i giochi quelli che impegnano la creatività dei ragazzi l'altra notizia importante che viene pubblicata un po' su tutti i giornali con cronaca locale oggi è quella della caccia al lupo attenzione non è una espressione così di tipo proverbiale oppure così onomatopeico in modo da fare capire altre cose è una vera e propria caccia al lupo da tre mesi un lupo gira per Fano lo si è visto spesso nella zona degli orti di Sassonia fa delle scappate anche sul canale Albani insomma gira un po' è arrivato camminando sull'asta fluviale del fiume Metauro e ora si aggira appunto nei canneti della costa ebbene l'assessore alla caccia Carloni ieri ha autorizzato la cattura del animale ha ricevuto anche i permessi dell'ISPRA delle mite del Ministero che ha autorizzato la Regione Marche a procedere per la cattura appunto del lupo si tratta di una cattura che non avverrà in modo cruento non ci saranno rischi per l'animale il quale sarà trattato con i guanti diciamo così una volta catturato il giovane lupo sarà traslocato in un'apposita area faunistica destinata al recupero appunto della fauna selvatica gli verrà messo un collare e quindi poi verranno monitorati tutti i suoi spostamenti attenzione non è la prima volta che i lupi si trovino in città nel 2016 un lupo è stato catturato in un cortile di una casa di Viale Primo Maggio una zona centralissima della città che unisce il centro storico dalla curva dell'Arzilla era un lupo che si aggirava lungo la spiaggia lì nei pressi e poi è fuggito perché poi insomma è stato trovato c'era clamore della gente la paura eccetera è fuggito e si è nascosto in Viale Primo Maggio dove è stato recuperato dal CRAS e proprio il CRAS coordinato da Angelo Giuliani il CRAS di Urbino sarà coinvolto nella cattura di questo animale sgambatoi per cani dato che siamo in argomento ce ne sarà uno per Rione e l'obiettivo dell'assessora Barbara Brunori i prossimi impianti saranno a Centinarola e alla Trave e ieri è stata presentata una mostra da parte della Fondazione Carifano una mostra che si aprirà al pubblico sabato prossimo è una mostra di uno scultore di un ceramista non molto conosciuto ma molto molto importante non molto conosciuto a Fano a Fano aveva lasciato una delle sue opere importanti pensate l'altare della chiesa di San Silvestro in piazza 20 settembre e nessuno pensava che questa opera fosse un'opera importante un'opera artistica realizzata da uno scultore che aveva fatto fortuna che si era fatto conoscere nella seconda metà del ventesimo secolo ci sono voluti 73 anni per riconoscere nell'altare di San Silvestro una vera e propria opera d'arte si tratta di Leoncillo uno scultore informale diciamo così le cui opere sono esposte a Palazzo Bracci Pagani a partire da sabato prossimo ora lasciamo Fano diamo un'occhiata anche a quello che accade a terre roveresche si parla della discarica perché il sindaco Sebastianelli ha convocato una riunione tra diversi sindaci e del territorio hanno partecipato quello di Fossombrone di Mondavio di Frate Rosa Sant'Ippolito Monte Felcino e Colli al Metauro non c'era il sindaco Massimo Seri forse avrebbe dovuto essere la persona più importante in questo caso è stato un po' come il convitato di Pietra perché si parlava della sorte riservata alla ex discarica di Carafaneto di Barchi e anche del biodigestore insomma che a Barchi non viene rifiutato viene contestato un po' anche su tutto il territorio ancora ha problemi per la realizzazione di questo impianto di gestore via libera dal PD all'opzione Barchi invece per quanto riguarda Fano il partito di Fano sceglie a maggioranza critiche anche sulle nomine di Aset ebbene c'è stata un'assemblea del Partito Democratico nei giorni scorsi in cui si è parlato nuovamente della raccolta dei rifiuti si è parlato delle nomine di Aset e a questo punto sembra che ci sia trovato un accordo per quanto riguarda la sostituzione del candidato Mattia De Benedittis per quanto riguarda le quote rosa con Monia Porfiri che era anche componente del CDA della passata amministrazione veniamo a San Costanzo a San Costanzo Solfanuccio sorge a Solfanuccio un nuovo centro sociale sarà una struttura green e high tech il sindaco Sorcinelli ha presentato il piano preliminare ai residenti ebbene l'opera è stata illustrata nel campetto della pista polivalente la presenza dei componenti dell'associazione gli amici di Nuccio e poi c'era anche un folto pubblico di residenti della frazione che sorge tra le colline di Stacciola e di Cerasa il sindaco Sorcinelli ha precisato che era importante questo contatto con la popolazione perché insomma sarà importante questo nuovo centro sociale che costituirà un centro di coesione tra la popolazione stessa importune i passanti e si sente male accaduto a Pergola era un uomo in stato di alterazione un senegalese forse in preda ai fumi dell'alcol avrebbe iniziato un po' così a importunare i passanti e i clienti di alcuni esercizi commerciali parole gesti atteggiamenti che sarebbero stati fortemente alterati dall'alcol hanno iniziato a preoccupare non poco i presenti immediatamente è scattata la richiesta di aiuto e poi l'uomo a un certo punto ha accusato un lieve malore ed è stato necessario così l'intervento di una ambulanza del 118 non abbiamo le notizie di Senigaglia nella edizione di Pesaro del Corriere Adriatico per cui passiamo direttamente alle pagine pesaresi le pagine pesaresi vediamo che parlano soprattutto di quello che è accaduto a Villa Caprile all'istituto agrario Cecchi hanno voluto devastare il Cecchi e punire la scuola è stato un raid vandalico particolarmente diciamo così trasgressivo violento hanno distrutto tutto hanno distrutto tutto è stato un vero e proprio scempio quello compiuto nel cuore della notte ai danni appunto dell'istituto i vandali hanno danneggiato di tutto arrivando persino a brindare con le bollicine c'erano due bottiglie appunto di 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 spumante a brindare per quanto avevano fatto sono stati così hanno sfogato la loro rabbia sfregiando sfregiando un po' tutti gli arredi i computer gli attrezzi non hanno rubato nulla ma hanno provocato tanti tanti danni i danni sono ingenti vediamo anche le fotografie che dimostrano quanto è avvenuto vediamo qui le tastiere dei computer devastati le attrezze distrutti le aule messe a soquadro e i teli dei capannoni tagliati e qui vediamo anche le bottiglie con le quali hanno brindato alla loro bravata l'hanno fatto per rabbia ed è una ferita che fa male lo ha dichiarato il presidente della provincia Giuseppe Paolini dopo i vandalismi e invita a riflettere rabbia tanto rabbia ha detto ma c'è anche qualcosa di mirato canalizzato forse volevano colpire la scuola forse è qualche ragazzo che è stato bocciato un gesto di odio nei confronti di un'istituzione didattica e formativa hanno fatto brandelli il telone di copertura degli attrezzi hanno buttato giù tutto in cucina e ci hanno pure bevuto e brindato il tutto mi porta a una riflessione dice il presidente della provincia quale ebbene si vive troppo una realtà mediata dai social per cui la violenza esplode all'improvviso senza freni inibitori ha detto appunto Paolini hotel residence a prezzo calmerato per gli studenti che frequenteranno la sede distaccata delle università di Urbino a Pesaro ne parla l'assessore Franco Illucci vogliamo estendere il protocollo per favorire l'integrazione tra Ateneo studenti e città ed è stato sottoscritto un patto tra il comune e l'APA appunto l'associazione che assiste un po' agli studenti che dimorano appunto fuori casa per ragioni di studio e gli universitari e per quanto riguarda i vaccini prosegue la somministrazione della quarta dose e poi anche delle dosi precedenti per chi non le ha fatte per gli ultra sessantenni vaccini trovato l'AB grazie a Marche Multiservizi sarà all'auditorium di Via Toscana in corso sono le verifiche dell'area vasta sulla idoneità dei locali per poter poi cominciare le sedute un accordo raggiunto per servire appunto alla comunità Cavalcaferrovia luce in fondo al ponte sia al progetto a ottobre affidati i lavori dopo il ferragosto il comune farà il bando per la manifestazione di interesse dunque qualcosa si muove per il Cavalcaferrovia pesarese via libera al progetto di straordinaria manutenzione a Urbino una nuova stretta sulla Movida per limitare il consumo di alcol scattano le multe anche gli esercenti che venderanno le bevande consumate fuori dai locali ebbene il comune ha reagito di fronte agli eccessi dei giovani che si abbandonano all'uso di alcol e soprattutto ha limitato l'asporto appunto dell'alcol dalle 20.30 alle 2 di notte e a chi vende alcolici dopo ora faranno molte multe multe a chi beve e chi ha venduto alcol da asporto dalle 20.30 alle 2 di notte e a chi vende alcol dopo tale ora il divieto è già esistente ma ora verrà fatto osservare in maniera più scrupolosa e poi è stato sottoscritto un accordo tra l'università e la polizia di stato per i corsi di aggiornamento dei poliziotti stessi si tratta di una convenzione destinata alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia di stato non soltanto nell'ambito giuridico ma anche in quello sempre più inderogabile della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro un appunto settore particolarmente importante mettiamo da parte ora il Corriere Adriatico apriamo il resto del Carlino e vediamo come la notizia sugli sgravi alla Tari viene posta in prima pagina Tari meno salata per le utenze domestiche il Comune Bissa estanzia un ulteriore fondo di 200.000 euro per sostenere anche le bollette per i rifiuti domande però devono essere presentate quindi non è come per le aziende che la cosa è automatica qui le domande devono essere presentate e poi giustificate con tutti i crismi che richiede il regolamento per ottenere questi sgravi e qua abbiamo invece le difficoltà del sindaco Massimo Seri per quanto riguarda la situazione interna creata nel Partito Democratico si parla di nomine ASET Porfiri entra la Porfiri entra nel consiglio di amministrazione dell'azienda servizi e si infuoca la guerra dentro il PD rispetto alle due correnti che si contrastano futuro Democratico e EIDEM Lupo di Sassonia via libera alla cattura il vicepresidente della regione Carloni autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica qui vediamo una immagine del lupo che si aggira in Sassonia ritratto da una fototrappola ci sono diverse fototrappole che monitorano o monitorano scusate gli spostamenti dell'animale nella zona di Sassonia dice Giuliani Angelo Giuliani del Crasse di Urbino che questo lupo ha trovato un habitat particolarmente adatto per le sue esigenze e quindi si è fatto stanziale in quel luogo ci sono dei gatti per cui per lui sono delle prede molto facili poi magari si sposta fino al Canale Albani dove ci sono degli animali disponibili da agguantare e forse ha preso anche qualche cinghialino e qualche capriolo insomma ha trovato di che sfamarsi al via la Kermesse il paese dei Balocchi si interroga sul valore del tempo nell'anno della sua maturità perché ormai è arrivato ad una edizione significativa il paese dei Balocchi si interroga sul valore del tempo e questo è un po' il tema improntato alla prossima edizione siamo accumulatori seriali di attività o sappiamo concederci dei momenti di vuoto mentre giochiamo parliamo mangiamo lavoriamo per godere di quello che stiamo vivendo è l'interrogativo posto dalla manifestazione l'entroterra dice no al biodigestore di Barchi sette i sindaci che si sono incontrati a Orciano convocati appunto da Sebastianelli Antonio Sebastianelli dice diversi i temi caldi Fano però non c'era il ramarico dell'organizzatore sarebbe stata importante la sua presenza ed era quella del sindaco Massimo Seri però era atteso era impegnato in un altro insomma aveva un altro impegno ecco e quindi questa situazione è rimasta questa riunione è rimasta un po' con un punto interrogativo cartoceto l'olio d'op si degusta in spiaggia e in albergo parte la seconda edizione del tour in programma anche incontri con i produttori e poi vediamo la foto di un personaggio noto è quello di Pierino Cecchi che è entrato nel consiglio di amministrazione delle balie è stato anche per due mandati consigliere comunale nella vicina Fano dice l'articolo che riguarda ovviamente Colli al Metauro insegnante per diversi anni all'istituto professionale Volta ha partecipato in modo attivo alla vita politica del suo territorio ed è stato anche per due mandati consigliere comunale nella vicina Fano aderisce all'Udc a Urbino vietato lanciare risa e coriandoli in centro questo è un articolo che riguarda la notizia di cui ho parlato prima quella della stretta anche sulla Movida stretta del Comune su feste di laurea e cerimonie ma il nuovo regolamento di decoro urbano detta limitazione anche sulle cali e l'alcol multe da 25 fino a 1200 euro insomma l'importo non è trascurabile per i trasgressori festeggiare dunque sì ma senza sporcare non bisogna affiggere volantini e locandine su pali semafori alberi muri monumenti e strutture i trasgressori rischiano da 25 a 150 euro per questa violazione novità anche per la somministrazione vendita e consumo di alcolici e superalcolici valide nel centro storico e nelle immediate vicinanze anche qui ci sono nuove misure di contenimento e poi a Urbino si sta festeggiando anche con il Gets il Duke del Gets alla corte del Duca Federico stasera l'ottava edizione di Urbino Place Gets una manifestazione che varca i torricini con il primo appuntamento dedicato al celebre pianista Ellington e poi ancora 3 milioni per le scuole a Fossombrone strade palazzi scuole appunto sono gli oggetti dei finanziamenti dell'amministrazione comunale ne parla Michele Chiarabilli che annuncia il grande piano di opere pubbliche e promette non è questa volta il classico libro di sogni sono investimenti reali secondo appunto Chiarabilli vediamo quali sono la priorità rimane la sistemazione la messa norma di tutte le scuole del territorio in alcuni casi si costruiscono anche nuovi edifici e poi si sistemano le strutture sportive come per esempio le tribune del campo sportivo comunale oppure la sistemazione delle strade del capoluogo e anche quelle dei fuori del centro quelle periferiche la riqualificazione della facciata del tetto del palazzo municipale della quadreria Cesarini della fontana di piazza Mazzini e della relativa illuminazione e poi ancora altri soldi per il ballatoio per la riqualificazione del ballatoio della corte bassa del ninfeo e della cappella del brandani e per quanto riguarda i cimiteri si ristrutturerà e si metteranno a norma quelli di Montalto per 90.000 euro e anche il muro di recensione di quello di Isola di Fano e poi non manca l'acquisto di nuovi giochi per i bambini nelle aree verdi del comune dunque un piano particolarmente esteso per quanto riguarda Fossombrone vediamo anche le pagine pesaresi del resto del Carlino la prima pagina riguarda l'episodio deprecabile di vandalismo che si è verificato ai danni dell'agrario Cecchi e l'istituto preso a picconate assalto notturno dei vandali uno scempio uno scempio vero e proprio squarciati i tendoni tagliati i fili elettrici distrutti i computer banchi sedie rigato il maxischermo infrante le vetrine della mensa rabbia del preside Giuliani fatto gravissimo un atto inaudito perpetrato ai danni della scuola come istituzione e sono veramente anche ingenti i danni provocati da questa incursione dei vandali e quindi occorre sistemare degli impianti che tutelino la sicurezza dell'istituto a questo punto le telecamere sono indispensabili per evitare che questi episodi si ripetano violentata a 18 anni fuori della disco ogni tanto noi vediamo sui giornali che si ripetano questi atti questi atti veramente condannabili una ragazza era in vacanza si tratta di una ragazza una turista lombarda in vacanza a Riccione ha conosciuto un 35enne veneto che era con lei a Riccione per le vacanze intorno alle due di notte lei si è fatta accompagnare in hotel nell'auto appunto di questo giovane ma a un certo punto lui si è fermato e ha preteso con delle avance cosa che la ragazza non era disposta a concedere e lui l'ha schiaffeggiata l'ha colpita e poi l'ha violentata la giovane quindi si è recata poi all'ospedale di Rimini si è fatta visitare è stata chiamata alla polizia e il giovane è stato arrestato il fermo del presunto responsabile è stato fatto dalla squadra mobile di Rimini sia l'agrissore che la vittima era in vacanza a Riccione l'uomo un turista di 35 anni portato in carcere e qua c'è una notizia curiosa hanno rubato un monopattino pensate a chi a un carabiniere e poi niente lo hanno proprio deriso hanno insistito anche quando erano stati scoperti per fortuna il carabiniere aveva degli amici con sé poi sono chiamati anche stati chiamati dei rinforzi e questi ragazzi di cui uno minorenne è stato preso ebbene era l'ultima notizia anzi voglio solo dirvi due parole per lo sport la vis regala emozioni e anche le partite mentre il fanno calcio sistema la sua difesa caccia al terzo attaccante e questo è veramente tutto Massimo Foghetti vi saluto vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con Occhio alla Notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti